L'allineamento dei denti è per esempio uno di quei servizi che offriamo a Bergamo ed è pensato per far risparmiare i figli dei nostri pazienti che devono raddrizzare i denti. Questo è un servizio che ci permette anche di raddrizzare i denti agli adulti e soprattutto quei pazienti che devono fare dei piani di cura misti dove non vanno tolti tutti i denti, vanno mantenuti alcune radici ma queste sono storte. Queste mascherine che ci permettono di raddrizzare in sequenza una serie di mascherine che vengono cambiate ogni due settimane ci permettono di ottenere i denti dritti così come sono stati pianificati col computer. Nell'arco di 6-9 mesi avrai i denti dritti tu o tuo figlio e il risultato viene garantito. Significa che se i denti non sono dritti come avevamo previsto noi facciamo un'altra sequenza di mascherine che ti porta comunque ad avere i denti dritti. Se hai necessità di informazioni lascia qua i tuoi dati.